Io sono un ipopedente, ho un ventesimo all'occhio destro e zero all'occhio sinistro. Però pur essendo un ventesimista non vedente, riesco a vedere dentro il mio occhio. Perché secondo me riesco a vedere? Perché ho una microcorragia, quindi ho delle colature che formandosi alla foce, diciamo in alto, nell'occhio, quando si accumula una voce scendono vortiginosamente, si espambono tipo una medusa e prende tutto l'occhio. Guardando attraverso un berretto di lana vedo un universo, un universo pieno di stelle che gira vortiginosamente, che ha una velocità pazzesca, pogliendo il berretto di lana posso paragonarla a un'oceano, che diventa più bianco. Non so perché, ma riesco a vedere questo. Lo riesco a vedere tutti i giorni. Quindi non vedo che all'esterno, ma vedo all'interno del mio occhio, con dei cambiamenti, a volte un po' più azzurro, a volte un po' più chiaro, a volte un po' più blu. Questo è quello che io, diciamo, vedo dentro il mio occhio. Tu cosa ne pensi? Io cosa ne penso? Non lo so.